Sai che stanno impazzendo le galline? Sono così contente perché gli ho appena preparato il nuovo mangime. Questo è il mio magazzino dove tengo un po' tutti gli attrezzi e anche il mangime per le galline che qui è bello a riparo da tutto e anche soprattutto dalla pioggia. Ho risistemato questo vecchio mulino di 30 anni. Ho risistemato tutto a mo' di... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.